Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Continua purtroppo la risalita dei contagi in Italia da coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi di positività riscontrati sono aumentati di 379 unità, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime oggi, nelle ultime 24 ore, sono state 9, ieri erano state 3. I tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7.000 rispetto a ieri. Purtroppo ci sono alcune regioni che guidano questi numeri. I nuovi casi si registrano soprattutto nella regione Veneto e in Lombardia. Una sola regione è senza nuovi contagi, si tratta della Valle d'Aosta. Nel monitoraggio settimanale condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, si legge, persiste una trasmissione diffusa del virus che quando si verificano condizioni favorevoli provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, la prima volta associati dall'importazione di casi da stati esteri. E si legge ancora, il numero dei nuovi casi di infezioni, sebbene rimanga nel complesso contenuto, mostra una tendenza all'aumento. Si ribadisce pertanto di rispettare i provvedimenti della quarantena, anche identificando strutture dedicate, sia per le persone che rientrano da paesi per i quali è prevista la quarantena e sia a seguito di richiesta dell'autorità sanitaria, essendo stati individuati come contatti stretti di un caso. In caso contrario, nelle prossime settimane potremmo assistere, si legge, ad un aumento rilevante dei numeri dei casi a livello nazionale. E parliamo del Veneto. Oggi ci sono 45 nuovi focolai attivi sul territorio. Rispetto a ieri ci sono 117 casi di cittadini positivi in più, 131 sono stati registrati soltanto a Treviso. In isolamento totale in questo momento ci sono 3740 persone, 136 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 117. E il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa che ha tenuto oggi alle 12, ha annunciato la firma ad una nuova ordinanza che proroga tutte le misure in atto fino al 15 ottobre. Questa ordinanza ha spiegato che lascia una finestra per l'8 di agosto per valutare cosa accadrà nel nuovo DPCM. Se non cambia nulla, anche l'ordinanza annuncia il presidente Zaia, resterà quella. Ma dice, immagino, novità sul fronte delle crociere, dei locali pubblici e altri dettagli che noi ovviamente continueremo a seguire. E adesso parliamo ancora di sanità, ma lo facciamo in maniera differente. Andiamo all'ospedale di Schiavonia per parlare di una tecnica chirurgica innovativa, perché a Schiavonia è arrivato il robot da Vinci. All'ospedale di Schiavonia è arrivata la più moderna evoluzione della chirurgia mini-invasiva, il robot da Vinci. Un investimento importante per il territorio. Il madre Teresa di Calcutta si conferma un ospedale strategicamente importante della rete ospedaliera Veneta, capace di dare risposte sempre più qualificate ai cittadini della bassa padovana e non solo. A dirlo, il direttore generale ULS 6 Eugania Scibetta, che ha ringraziato la Regione Veneto. Il robot rappresenta un indiscusso salto di qualità, per esempio nel trattamento dei tumori del colon retto, stomaco, rene e prostata, nella chirurgia addominale e di parete, in generale in tutte quelle situazioni cliniche che già si avvalgono della chirurgia laparoscopica. Questo per i pazienti si traduce nell'assenza di cicatrici, tutela delle strutture anatomiche, rischi di infezione post-operatori più bassi e tempi di degenza e recupero più brevi. È trascorsa tranquilla la notte all'interno del centro accoglienza per migranti all'ex caserma Serena a Treviso, dove sono stati riscontrati tra gli ospiti e il personale che gestisce la struttura i 131 casi di positivi al Covid. Tutti sono stati posti in isolamento. Mentre a Jesolo anche oggi ci sono stati dei momenti di tensione nella sede della Croce Rossa italiana che ospita migranti che si trovano in isolamento dopo i casi di positività di loro connazionali già trasferiti nei giorni scorsi. Oggi dovevano sottoporsi alla ripetizione dei tamponi, ma molti si rifiutavano e sono dovute intervenire le forze dell'ordine. A testimoniare la difficoltà nell'esecuzione delle operazioni è stato il direttore generale dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza che ha spiegato che alcuni stranieri si sono rifiutati di sottoporsi alle operazioni dell'Ulse 4 con tutte le precauzioni del caso, la delicatezza e i timori della situazione e hanno cercato di convincerli a fare il test per verificare il loro stato di salute. E torniamo a parlare adesso dei danni enormi lasciati dalla tempesta Vaia sulle montagne del Veneto nel 2018. è stata pubblicata la gara per i lavori ai serrai di Sottoguda. Guardate. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara per l'affidamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dei serrai di Sottoguda nel Bellunese, violentemente colpiti e profondamente danneggiati dalla furia della tempesta Vaia. In due anni abbiamo investito oltre 11 milioni di euro per mettere in sicurezza e ridare splendore a questo luogo, spiega il Presidente della Regione nel suo ruolo di Commissario Delegato per l'emergenza maltempo del 2018 e ricorda che l'anno scorso sono stati avviati interventi di rimozione rocce pericolanti e formazioni di pista di servizio per 2 milioni di euro, oggi in fase di completamento. I cantieri sono aperti, visibili a tutti. Quello dei serrai è un cantiere simbolo degli oltre mille avviati lo scorso anno per ridare splendore alla montagna ferita. I serrai di Sottoguda sono uno dei luoghi più emblematici del paesaggio dolomitico. Anche a luglio spiagge con una buona affluenza ma soltanto nei fine settimana, mentre nei giorni feriali sono rimaste abbastanza vuote. Sono i dati che emergono dalle rilevazioni del sindacato italiano Balneari che aderisce a Fipe, Confcommercio, e associa più di 10 mila imprese balneari. I calli più vistosi si registrano in Sardegna, Campania, Sicilia e Veneto con un meno 40%. La gran parte degli italiani sta riscoprendo la bellezza dei litorali nazionali vicino ai propri luoghi di residenza, dice il presidente Sib. Ma mancano all'appello gli stranieri, tanto che diverse località a vocazione turistica sono state maggiormente penalizzate. Siamo ottimisti, spiega per il mese di agosto, da sempre scelto dalla maggior parte degli italiani per le vacanze, anche se siamo già consapevoli che il comparto turistico del 2020 complessivamente non raggiungerà purtroppo il segno più in nessuna regione italiana. E adesso invece è arrivato il momento della nostra rubrica di approfondimento e allora sentiamo immediatamente l'esperta di storia, Marisa Sottovia, che salutiamo. Bene trovati con la storia, oggi parliamo della magnifica comunità di Cadore per una mostra di elevato valore storico ed artistico che si è appena aperta. E allora conosciamo l'evento. Nella casa natia del pittore Tiziano Vecelio vi è una mostra che espone un dipinto del cugino Cesare Vecelio. Si tratta di un'opera che risale al 1599 e racconta una storia importante, una pagina importante del territorio del Cadore. Vi è rappresentata una giovane donna con vesti cadorine che riceve dalla Repubblica di Venezia una lettera di accettazione della dedizione. E allora cos'era la dedizione? Si trattava di una adesione da parte delle città, delle comunità della terraferma allo Stato veneziano e avveniva in forma spontanea. Chiedevano di passare appunto al governo di Venezia perché erano stanche queste comunità delle continue lotte delle signorie perché volevano espandersi. Le comunità erano diverse, le signorie erano diverse all'epoca, ricordiamo gli Scaligeri di Verona, poi ancora i da Cammino di Treviso, poi gli Estensi, poi i Cararesi della città di Padova, ma ricordiamo che Padova non ebbe nessuna dedizione. Le comunità chiedevano che cosa a Venezia? Privilegi politici, sviluppo economico, sicurezza, vantaggio fiscali e più libertà. D'altra parte la Repubblica garantiva le autonomie locali con rispetto degli statuti, delle lingue e delle tradizioni. Questo meccanismo ha permesso di formarsi il Veneto senza sofferenze e senza spargimento di sangue. Allora ritorniamo alla magnifica comunità che riceve l'accettazione della dedizione, come abbiamo detto, nel 1420. Quindi sono esattamente 600 anni da questo evento e vi è appunto la celebrazione quest'anno. Ma quali altri territori, quali altre comunità chiesero la dedizione? Ci fu anche Treviso nel 1339, poi ancora Vicenza, Verona, Bassano nel 1404, poi passiamo ancora alla Carnia, al Friuli, Gorizia e infine anche Brescia, Bergamo e anche Crema. Quindi si forma un potente Stato veneziano che ha un'influenza enorme nello scacchiere europeo orientale, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista economico. Torniamo poi a Pieve di Cadore in questa mostra che abbiamo appena citato, che espone l'opera appunto di Cesare Veccellio. È una mostra che emoziona solamente il fatto di entrare nella casa natia del grande genio appunto Tiziano Veccellio. Salutiamo e ringraziamo l'esperta di storia Marisa Sottovia che anche questa sera ci ha accompagnato in un bellissimo approfondimento. Continuiamo con altre notizie. Riparte da oggi l'attività del gruppo di Guardians. Gli operatori che con il supporto di Vela Spa e del Comune di Venezia lavorano con gli agenti della Polizia Locale per sorvegliare molte zone della città di Venezia, in particolare Piazza San Marco, i Giardinetti, la Riva e l'area Marciana. In generale si tratta di persone chiamate a controllare i punti di accesso principali al centro storico e sensibilizzare i visitatori al rispetto e alla tutela. Autobus urbani gratuiti a Cortina fino al 15 settembre. Il Comune vuole incoraggiare a lasciare l'automobile al parcheggio, una nuova organizzazione per il territorio nel pieno della stagione turistica che invita ad approfittare dei mezzi pubblici per un modo nuovo di muoversi sul territorio lasciando l'automobile a casa. Parliamo di clima perché veramente c'è un caldo con un elevatissimo tasso di umidità a gradi molto alti, un'area anticiclonica che resterà sul Mediterraneo almeno fino a domani determinando condizioni di prevalente stabilità ma con qualche attività convettiva pomeridiana sulle zone di montagna con occasionali rovesci. Le temperature resteranno ancora per le prossime ore sopra la media del periodo con un apice di caldo previsto proprio per la giornata di domani. Domenica invece questa pressione andrà in cedimento per l'avvicinamento di una saccatura atlantica in transito tra lunedì e martedì. Si avranno condizioni di crescente instabilità con frequenti rovesci e temporali da prima sulle zone montane e poi anche in pianura e da domenica le temperature saranno in calo. È tutto per questa edizione, rimanete con noi, tra poco l'informazione a livello nazionale. Grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana. Grazie a tutti!